Dobbiamo dimostrare. Sono voti che sono mancati nelle fila di Forza Italia secondo lei? Sono mancati un po' dappertutto, qualcuno era in missione però a differenza, spieghiamolo, di come avviene in altre votazioni, le missioni non abbassano il quorum perché è previsto una maggioranza assoluta. Quindi tra missioni e assenti ingiustificati se ne sono mancati in tutti i gruppi, ora vediamo dove sono mancati di più. Però certamente mi sento in qualche modo di scusarmi nei confronti degli italiani.